Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Ancora un caloroso saluto a tutti i nostri ascoltatori Federico Chiesa è osservato da mezza Europa ma il giocatore sembra voler restare in Italia seguendo le orme di Federico Bernardeschi Chiesa vorrebbe separarsi in maniera consensuale dalla Fiorentina e tra le squadre interessate, oltre alla Juventus sembra esserci anche l'Inter di Luciano Spalletti Nel frattempo il commissario tecnico dell'Argentina Lionel Scaloni ha diramato le convocazioni per le gare contro il Messico del 16 e 20 novembre Nella lista sono presenti entrambi i giocatori della Fiorentina Pezzella e Simeone In occasione della partita in scena sabato pomeriggio ore 18 al Franchi tra Fiorentina e Roma Andrea della Valle assisterà alla partita dallo stadio Si prospetta un match caldo anche sugli spalti i biglietti venduti per la partita infatti vanno verso quota 28-30 mila Per Fiorentina1.com Leonardo Passo Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Viola Tweet